ciao bambini sono nicola e anche oggi sono qui per darvi una nuova proposta di allenamento per cominciare bene la settimana spero che il weekend sia andata bene che il tg vi sia piaciuto e a proposito mandateci materiale perché nel prossimo tg potreste esserci anche voi oggi faremo un allenamento diviso in quattro parti la prima parte di riscaldamento la seconda lavoreremo sull'equilibrio la terza utilizza faremo degli esercizi per il controllo della palla e poi lavoreremo sugli arresti per fare tutto questo dobbiamo solo procurarci un cuscino che ci servirà dopo una palla da basket oppure in mancanza una pallina da tennis o un rotolo di carta igienica o un calzino arrotolato ok adesso cominciamo subito con il riscaldamento facendo per due minuti corsa sul posto proseguiamo con un minuto di skip ginocchia alte bipodalico ok passati 20 secondi proseguiamo con un minuto di salti sul posto bipodalici e come sempre vediamo la dimostrazione di fabio prossimo esercizio un minuto di salti piedi pari avanti e indietro dopo esserci riposati 20 secondi proseguiamo con un minuto di line step frontale come fa fabio adesso line step laterale un minuto e 20 secondi di pausa prima del prossimo esercizio chiudiamo la prima fase di riscaldamento facendo un minuto di calciata sul posto bipodalica adesso fabio ci fa vedere la dimostrazione e successivamente ci rinfreschiamo un attimino e beviamo un goccio d'acqua bene bambini adesso che siamo caldi faremo la seconda parte di allenamento dove andremo a lavorare su esercizi per l'equilibrio e per questo avremo bisogno di un cuscino possibilmente che sia un cuscino abbastanza rigido in modo da aiutarci a migliorare il lavoro di propriocettività è un nome complicato ma si può fare ok adesso cominciamo con un esercizio di propriocettività sul piede sinistro e lo facciamo per 15 volte con una pausa di un minuto prima del prossimo esercizio guardate fabio adesso ripetiamo lo stesso esercizio con il piede destro sempre per 15 volte ok adesso ripetiamo per altre 15 volte lo stesso esercizio partendo col piede sinistro ma facendolo con gli occhi chiusi ripetiamo lo stesso esercizio questa volta con il piede destro ultimi due esercizi stesso esercizio piede sinistro ma questa volta lo faremo ad occhi chiusi sempre su un cuscino 15 volte chiudiamo questa serie di esercizi sempre per 15 volte facendolo con il piede destro sempre sul cuscino con occhi chiusi vai fabio perfetto bambini terza fase di allenamento adesso andremo a lavorare sul controllo di palla per questo come vi ho detto prima avremo bisogno o di una palla da basket o in mancanza una pallina da tennis e se non abbiamo una pallina ma cosa molto difficile possiamo utilizzare un rotolo di carta igienica oppure un calzino arrotolato ok cominciamo facendo un lavoro di circonduzione della palla testa fianchi gambe e ritorno con appoggio bipodalico lo facciamo per due volte per 30 secondi con 30 secondi di pausa fra una serie e l'altra ma prima guardiamo come si fa grazie a fabio ma prima guardiamo come si fa grazie a tutti ripetiamo lo stesso esercizio ma questa volta con un appoggio monopodalico sulla gamba sinistra bravissimi chiudiamo questa serie di esercizi ripetendolo con appoggio monopodalico ma questa volta sulla gamba destra vi ricordo due serie per 30 secondi con 30 secondi di pausa vai ok bambini passiamo all'esercizio successivo per questo avremo bisogno o di una pallina da tennis oppure mancanza di un calzino arrotolato eccoli qua allora cominceremo a fare un esercizio che ripeteremo due serie ogni serie da 15 ripetizioni facendo una pausa di 30 secondi tra un esercizio e l'altro lanciando la palla in alto e battendo le mani una volta prima di recuperarla facci vedere fabio ripetiamo la stessa serie due volte per 15 volte con 30 secondi di pausa ma questa volta le mani dovranno battere due volte adesso per vedere quanto si deve più veloci rifaremo lo stesso esercizio sempre due volte per 15 volte con 30 secondi di pausa ma le mani andranno battute tre volte vediamo chi ce la fa vai salgo Benvenuti Ultimo lavoro prima della sfida finale Adesso faremo degli esercizi sull'arresto Li ripeteremo per 15 volte E poi faremo una pausa di 30 secondi Tra questo esercizio e quello che vi proporrò dopo Ok? Il primo esercizio saranno passettini su un posto Con arresto a un tempo Ok, adesso per 15 volte Passettini sul posto Arresto a due tempi Sinistro-destro Passettini sul posto Passettini sul posto Adesso ripetiamo lo stesso esercizio Ma questa volta Arresto a due tempi Sarà destro-sinistro In my soul This is real These nights are getting shorter In my soul This is real Bene, continuiamo a lavorare sugli arresti Ma questa volta lo rendiamo ancora più completo Per 15 volte faremo ancora arresto a due tempi Sinistro-destro E rotazioni usando il piede sinistro come piede perno Passettini sul posto Ripetiamo l'esercizio Ripetiamo l'esercizio Arresto a due tempi Questa volta destro-sinistro E rotazioni Piede perno destro Ripetiamo l'esercizio Bravi bambini Ormai abbiamo finito Ma come promesso Come sempre La sfida finale Questa volta La rendiamo un po' più divertente Faremo due esercizi Separati E inizieremo con La solita isometria Squat Sedia duro Ma questa volta Monopodalica Gamba sinistra Per Almeno 30 secondi Fabio fargli vedere come si fa Perfetto Adesso Appena avete ripreso le energie Proviamo a rifare lo stesso esercizio Quindi Isometria Squat Sedia duro Ma questa volta Modopodalica Gamba dentro Bravissimi bambini Anche oggi abbiamo finito E Quale modo migliore Per cominciare la settimana? Tra l'altro Oggi è una bella giornata C'è il sole Quindi se qualcuno Ha la possibilità Nei momenti di svago Due tiri In cortile O un po' d'aria fresca Non fa certo mai Sempre restando a casa Ma La cosa importante è Ricordatevi Prima Fate tutti i compiti In modo che Nel momento in cui andrete a giocare Avrete la testa libera E non avrete Il pensiero Di dover smettere Per andare a fare i compiti Ubbidite la mamma E Soprattutto Continuate a contribuire Mandandoci Immagini Video O Qualunque cosa Che viene in mente Per poter Sempre arricchire maggiormente Il nostro telegiornale Che Come sapete benissimo Andrà in onda domenica prossima Io vi ringrazio Ma Prima di andare via Uno Due Tre Here you can Che Grazie per la visione